Rita Giorgi, maturità del 54, luglio 54, ho 89 anni e poi l'emozione è tantissima, tantissima. Prima di tutto sono tornata nel vecchio Galileo, per me sono passato 8 anni fra ginnagio, liceo e scuola media perché la Rosselli era inclusa nello stesso palazzo. Tre medie, due ginnagio e tre liceo, 8 anni, sono tanti e quindi volevo tornare a sedermi su uno di questi banchi che erano diversi ma insomma mi hanno dato anche una sedia meravigliosa quindi non ho problemi per la schiena, per ora. Cristian Giaffreda, intanto vorrei ringraziare le persone che si sono dedicate a organizzare questo bellissimo evento che ci dà la possibilità di rientrare a distanza, nel mio caso, di 30 anni in un edificio, in una scuola che ha rappresentato molto per noi, una bella iniziativa. Allora, io sono Chiara Pancani e sono tornata a fare questa versione e non l'ho potuta fare durante la maturità perché c'era il Covid e è una bella sensazione, dai, tornare a scuola è emozionante.